ecco gli animali più cute di tutta tiktok italia se non del mondo e partiamo subito con un alieno cos'è un peluche un trudy è un porco spino un riccio un non so cosa sia ma quanto cazzo è carino e proseguiamo immediatamente con due husky credo siano husky o malamute husky comunque la razza degli husky è la mia razza preferita tra l'altro volevo anche adottare un cane io che era proprio un husky scappato dalla guerra dall'ucraina e scappato l'han trovato e l'hanno portato in italia e io quando vedo gli husky tutte le volte mi viene in mente quel povero cucciolo e mi si emoziona il cuore comunque andiamo avanti però fatemi sapere voi che animali domestici avete e soprattutto come si chiamano che hanno dei nomi assurdi gli animali soprattutto questo cucciolo di culo è un cucciolo di culo un culo ha partorito un culo ok un culo ha partorito un cucciolo di culo oh ma che carino vabbè questi sono i classici il classico trend del tiktok che te ne fai così il cane molto 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 bello e sicuramente avrà fatto molti per più di me in questo video oh attenzione questo mi sa di averlo visto chi è che non l'ha visto attenzione bellissimo questo è davvero figo ma andiamo avanti una tranquilla cena con la famiglia c'è un topo cosa sta mangiando raga c'è un topo che sta mangiando cos'è una caramella un pezzo di carne un cos'è carne per forza una caramella anche se sembra tipo le gelatine tutti i gusti più uno di harry potter ho un altro topo no è un chihuahua a me fa un schifo che non so se è un chihuahua a parte che gli hanno messo tipo le palline perché quando deve uscire perché suonano tipo delle campanelline lì all'entrata è talmente piccolo che non lo senti neanche ma poi se vado in giro con un cane del genere lo schiaccio per forza la notte che sono così rincoglionito che sto andando a cercare il mangiare nel frigo a un certo punto no Bobby ha ucciso Bobby questo cane in braccio è un attore nato sembra sembra un bambino quando è stato partorito ok è vivo è vivo no è tutto a posto questo è un golden retriever raga mi manca voglio avere un cane chi è che voi ce li avete i cani perché io il mio purtroppo se n'è andato è dieci anni fa ormai sono triste questo guarda che carino questo si chiamava Milu la mia piccola cagnolina la mia piccola cagnetta attenzione perché Bugs Bunny si sta ma che occhi ha raga solo 5 948 like raga ma c'ha degli occhi che sono uguali a queste cos'è uva non so cosa sia delle bacche e poi abbiamo un gattino che rompe le palle alla padrona ah no ho letto solo ora pensava che stesse annegando e la gattina la vuole salvare ma quanto sei cute come direbbe chi era ferragni sei cutissima no raga sono tornati i cuccioli di aschi guardateli guardate gli aschi raga io li amo no raga gli aschi sono troppo belli faccio subito faccio una donazione portatemi subito 18.000 cani cuccioli di cani voglio tutti gli aschi della terra oh mio dio raga ma è bellissimo sembra la scena della Walt Disney non ci credo ma è bellissimo e vi presento H questo bel cane sono io e faccio così in macchina a giugno luglio agosto e anche settembre perché muoio di caldo io in macchina sto sempre così fuori dal finestrino e tutte le persone che mi guardano mi dicono che bel cagnolino come si chiama e i miei amici e la mia amma rosa chiunque la mia famiglia lui è il cucciolo che ha sempre caldo d'estate iscrivetevi al canale e lasciate mi piace viva le cagate ok questa qui è mia mamma quando dovevo andare a scuola e veniva a svegliarmi in questo modo con i pugni con i graffi però quanto sono carini i cagnoli attenzione destra o sinistra aaaaaaah è un prank tag life incredibile c'è rimasto male poverino che cos'è una scimmia? c'è un cane e una scimmia sembra all'inizio una barzelletta c'è un cane e una scimmia in un frigorifero la scimmia va dal cane e mi dice hai fame? ti infilo una banana nel culo scusate mi dissocio raga ma quanto intelligente è questa scimmia ma è più intelligente di me ancora ancora ne voglio ancora oh dammene ancora io ho fame oh dio quanto è buona questa panna ma rimma cinghia la ladra ne voglio ancora come si fa? spruzzamelo umano umano spruzzami tutta la panna che c'hai schizzamela tutta in f... eh no scusate io ve lo sempre raga la chita la chita insieme ad un aschi raga la chita insieme ad un aschi è la coppia perfetta è la coppia perfetta la chita la chita inu e aschi sono le due razze per me per eccellenza top cioè è come avere due due cani leggendari dei pokemon è un pesce palla gufo è un gupalla questo è un gufo palla in arte gupalla oh mio dio sa una corona in testa questo animale che non mi ricordo assolutamente il nome aiutatemi a ricordare ha sbadigliato molto carino c'è un unicorno dove si appoggiano i drink sarà ubriaco forse oh mio dio già i gatti di natura sono perennemente nulla facenti stanno tutto il tempo sdraiati non fanno un emerito cazzo in più gli mettete un robo rilassante in testa passano tutta la giornata a dormire che cagano anche nello stesso posto non escono neanche e comunque siamo quasi a 40-50 mila su instagram per quale c***o motivo non siete ancora venuti a vedere le mie cagate extra vi sto aspettando ogni giorno sono qui che ti guardo negli occhi e dico ma perché non sei venuto su instagram devi seguire anche le cagate lì sei un supportatore fondamentale del canale di ogni mio canale io ti voglio ti bravo in tutti i canali mi raccomando ti sto aspetta acaspettando acacchicks vabbè ma raga ma è finto sto c***o ma raga ma è finto ma è troppo finto per essere vero o è troppo vero vabbè comunque avete capito è un po' l'han disegnato wow un coniglietto sapete che so fare il suono del del gufo mi sono cringiato da solo attenzione proprio perché parte la gara Valentino Rossi che ha smesso di correre ma è tornato in pista perché vuole superare Mark Marquez lo supera su rettilinea prende la scia è incredibile Valentino Rossi Valentino Rossi c'è Valentino Rossi c'è 20.000 like ci sono andiamo avanti ok c'è Shawn Mendes col suo cane sempre Aski un altro Aski raga ma perché mettete tutti gli Aski sono i miei cani preferiti 3 quanti sono quanti le damme 1 bastardo 4 5 tutti fichissimi poi 6 un altro 7 non ci credo raga non ci credo 8.000 like in 2 minuti mi avete messo non è vero un altro l'unico